Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Fanny Gameric Siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot nel quarto DLC della storia di Bardock Vedete ragazzi tutti quei moscerini nel cielo? Sono secondo me tutti i canassini che dobbiamo affrontare Comunque ragazzi, continuiamo da dove ci siamo lasciati Dobbiamo, a quanto pare, abbattere queste torri Con tutte le odd e poi andare Nella città Se non battiamo questi, a quanto pare, viene più difficile In città Ecco Ecco I deboli si muovono sempre in branco 170 ragazzi Dobbiamo usare la combo con i nostri amici ragazzi Comunque anche tipo Bardock I Saiyan Non è che erano tanto Come dire Giusti Si sa che Andavano a sterminare la popolazione Magario 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 Magi IC Massima potenza La combo, la combo ragazzi Ecco, i Jasmine sono morti 107 116 anzi Adesso ci sono quelli più In teoria più forti Terminato Guardate quanto sfere ci hanno dato Per distruggere una base elimina i nemici a suo interno Devasta i bersagli con i colpi dell'aura e spazza via gli avversari Nelle basi distrutte troverai oggetti da raccogliere Ah, devo demolire anche la base Ok Il livello di forza nemica è diminuito Una bella strage Facciamo anche questo No Altri 185 kanaksiani ragazzi これ 空襲 会津 エンジェタ クランチャー 空襲 行載はどした? おおおしめが 空襲 テゥ 素性はなんだ? ひち 空襲 キュウ! 空襲 当たれか よおしめが失敗 コツアーキを見せて これで アーカー フル アーカー massima potenza combo z no, non l'ho preso 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 oh, non l'ho preso dai, combo z no, non l'ho preso 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 mi sa che finiamo mi sa che finiamo prima di prima di fare la combo combo l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta invece ragazzi ora ci diamo solo due ma no fine come il livello di faccia è una miglia di meno inizio C'è ancora comunque ragazzi Guardate Super cura cola Ok adesso possiamo andare in città ragazzi Per l'ultima horda Nivello di potenza attuale 1 Ti attende una battaglia Vuoi procedere? Certamente Da 4 l'abbiamo ridotta a 1 Omaetatchi Sackiから暴れ回っているようだが この町には 決して手出しはさせん Fuff E'kikigattin' no mo imma no uchi da ze 210 E chissà quanti ce n'erano Se non distruggevamo con le horda Se non Sconfiggevamo con le horda Fuff E'kuhi Duc Grazie a tutti. Sono tutte così ragazzi. Combo Z. 109. Siamo a metà già. Ah no, più della metà. Siamo a metà già. Siamo a metà. 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 Sì. Siamo a metà. Siamo a metà. Siamo a metà. Siamo a metà. Sì. 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 . Sì. 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 . . . Sì. Sì. . 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 Sì. . Sì. . Sì. 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 Cosa bambino era Sofilla? Ecco Ecco L'ha vista allora Alla fine È La scola L'ha vista l'interesse L'hova 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 Due L'ha lasciato però Però l'ha visto Vai alla piattaforma di lancio Per raggiungere il pianeta Myth Pensiamo un po' di cose Qua metto quello guidato ragazzi Dato che l'ho portato anche a livello 3 Qui posso mettere anche Un'altra conoscenza Metto nessuna pietà Sempre a contare sul livello di forza Con quello scooter Vabbè ragazzi Andiamo sul pianeta Myth Voy a salire solo Ok Ok Cosa? È zero! Non c'era nessuno. Ok. Quindi il mio figlio è morto? Ha ha ha! Il mio figlio è un figlio! Ah! Ha avuto un po' di riuscire. Per il mio figlio, per il mio figlio, poter farvi un po' di 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 un più d'amudita. Ma sarebbe questo mito il milyon. Per esempio, ho scoplo il mio figlio dell' Non è vero che ci sono detto, ma non è vero che ci sono state già riusciti. Beh, è vero. Se volete tornare a fare un sacco di figlio 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 di figlio. Che cosa? E' quello? Quelli che sono rimasti di questo pianeta Guardate Aspè, ma sono tutti morti? Tom? Come hai fatto? Quale c'è? Cosa c'è? Ehm... E' un bambino che è un bambino E' un bambino che è un bambino E' un bambino che è un bambino che è un bambino E' un bambino che è un bambino Allora chi sono? Chi è? Chi è voi? Frieza. Chi è venuto a farlo. Ah, Frieza è lui stesso. E' un uomo. Mi sono venuto a volerci a volerci a Begeeta. Ah, non mi sono venuto a volerci. Tutti morti? O che è il gloppio? Tutti incavai quattro? O che è il storico? Sto che il sogno è lato, per essere un soggetto. Oh, che è il suo dolore. Ino che. Nostrattare sbagliare il vostro ragazzo in campo? what does... you guys have got this? ne dicevi c'è meno? sesi, diciamo, palazzi del marazone è lui dire che la clinica del evangelizare freeza la sua fama no me l'eada no frieza様 a chi sombra sai a jenna mei zahari da tosciaってる uck sono ori tochi ho zutto frieza様 no mei lei通りに動いてきた so mhitaこと da do e ti domo no e Sì, ma che non ci sia così, è così. Ma... La scuola che avevano usato... ...è... ...è questo? ... ... ... ... ... ... Vieni! Vieni! F... Friza è solo usato a usare... Oh... No... No... Non è tutto. Non è vero... Ma... In questo modo... Tutti tutti i Saiyajins... Friza... Sì... 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 Lacrime averili ragazzi... Lacrime averili... Questa parte mi era saltata... Non mi ricordavo di questa parte... No... Qui si tratta... E... Sì... 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 Non ti sembrava, non ti sembrava. si è scatenato trasformazione spirito della cazza guerriera di bard che ora è disponibile ma spirito della cazza guerriera levati ma che spettacolo ragazzi non sia levati una moto attenzione attenzione la cazza massima potenza e questo è molto puro morto Sì, è vero! Vedi il futuro Vedi il futuro Vedi il futuro del suo figlio Levati Vedi il futuro del suo figlio 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 ragazzi un saluto a tutti